Buonasera a tutti, benvenuti a questa lezione post-resonance intensivo, la prima per i nuovi e la prima dopo Ferragosto in cui iniziamo a definire un po' di cose. Stasera è una lezione dedicata prevalentemente al lavoro con gli altri, visto che molti di voi hanno partecipato agli intensivi o a questo intensivo, e volevo iniziare a mettere un po' giù di idee, di riflessioni, di spunti su cosa serve per essere una persona che lavora con gli altri in maniera efficace. Cioè io non voglio neanche parlare semplicemente di coaching, per me il coaching è una parola, non dico come tante, però potrebbe chiamarsi mille cose diverse, io preferisco proprio, in mille modi diversi preferisco proprio il termine working with people, lavorare con le persone, qualsiasi sia il tipo di lavoro che facciamo con le persone, se siamo dei manager, se siamo dei terapisti olistici o meno, se siamo dei counselor, se siamo dei coach, caratteristiche di un lavoro trasformativo con le persone, dal mio punto di vista, e non solo dal mio, devono rispettare delle cose importanti che vanno messe giù in maniera molto chiara. Quindi parleremo di questo, inizieremo a vederla in questa lezione, e ripeto, non è semplicemente per chi vuole fare il coach, è per chi vuole avere un impatto trasformativo con gli altri, per gli altri, sugli altri, non è un termine che mi piace tantissimo, ok? Quindi le vedremo, sono nove, le iniziamo a vedere da un punto di vista proprio poi, le svilupperemo, le approfondiremo. Voi nell'intensivo o nell'online state imparando la tecnica, il processo, però quando lavoriamo con gli altri all'interno del corso, quando impariamo a lavorare con gli altri, in realtà stiamo lavorando anche su di noi, con noi. E quindi sviluppare queste capacità è anche il bisogno che abbiamo, cioè di trasformare noi per imparare a lavorare bene con gli altri. E' sempre un processo dove c'è tori e uke, come dicono le arti marziali giapponesi. Cioè io che porto la tecnica, sono una parte attiva e apparentemente c'è una parte passiva dall'altra parte, ma in realtà la parte passiva mi sta insegnando a sviluppare delle qualità. In realtà è molto meno passiva di quanto passiva ricevente, mettiamola così, perché poi noi in Occidente abbiamo questo attivo è buono, passivo è negativo, no? In realtà ci sostiene dall'altra parte e ci aiuta a sviluppare, a svilupparci. La prima è la presenza, una presenza costante e oserei dire empatica, ma dove per empatia non vuol dire semplicemente sento le stesse cose che senti tu. Perché quando lavoriamo con una persona, io dico sempre l'empatia, può essere, se la interpretiamo male, può essere un rischio. Perché se stiamo lavorando con una persona che ha delle emozioni molto forti o che in qualche modo è nel disagio, è il nostro lavoro come coach, non è quello di lavorare sul disagio, ma neanche come agente di trasformazione con un team di persone, eccetera, eccetera, diventare empatici con quella persona vuol dire sentire le stesse cose, vuol dire entrare nel disagio anche noi, che non è quello che vogliamo. Non portiamo le persone a performare bene, che è quello che facciamo, entrando anche noi nella parte di disagio. Perché non è quello che facciamo. E quindi la presenza costante e empatica vuol dire quello che facciamo normalmente nelle inquairi, esserci, sostenere e sentire la persona, rendermi conto, diventare consapevole di quello che sente la persona in quel momento, diventare consapevole senza lasciarmi trasportare nel suo sentire. Questa è una presenza empatica, poi la svilupperemo. Il secondo è la self-awareness, cioè essere consapevole di me stesso. Cioè rendermi conto in come sto, come mi sento, quali sono i processi che a questo momento attraversano il mio essere e cosa sto, in che momento sono, cosa so. Svilupperemo anche questo. Adesso ve le dico in maniera veloce. La terza è fidarmi della mia intuizione. Fidarmi del mio, quello che gli inglesi e gli americani chiamano gut feeling, cioè quello delle intuizioni che mi arrivano. Lavoro con gli altri è un lavoro che io posso studiare modelli, tecniche, approcci, quanti ne volete. Ce ne sono diecimila, alcuni più validi, alcuni meno validi. Tipicamente quasi tutti gli approcci, ma anche in scuole più legate a un cambiamento personale. o più sistemico, ma mirano a dare un sistema plug and play, cioè dove tu non devi pensare, usa i sei esercizi e ti vedi che funziona tutto. Tipica di questa cosa, proprio perché è stata creata, non è stata creata per quello, ma è stata poi sviluppata per essere commerciabile come una commodity, cioè come un litro di latte, è la programmazione della linguistica. Se voi andate a fare un corso di PNL oggi, non nasce con quello scopo lì, non nasce neanche in quel modo lì, ma se voi andate a fare un corso di PNL oggi, insegnano 20 esercizi con cui risolvere qualsiasi cosa da fare proprio in maniera quasi automatizzata. Ti metti lì, quindi non serve che capisci un cavolo, e ti metti lì, li esegui, non devi neanche guardare quello che succede, le parole male, la bacchetta magica. Che per carità, da un punto di vista di marketing, può anche funzionare, però non funzionano poi dal punto di vista reale, e invece arrivano sempre a un certo punto nel lavoro con le persone in cui dobbiamo aprirci alle intuizioni che abbiamo, riconoscerle, sentirle, e rischiare di vedere che succede se le seguiamo. Cioè chi ha seguito un corso Resonance, ma anche qui nella vault del corso ci sono circa 400 lezioni da quando ho iniziato a fare, 400 lezioni sono tante, sono in vendita, quindi ve le propongo, sono 400 lezioni, sono 400 ore di lavoro, e si vedono dei momenti in cui a distanza, su Zoom, quello che volete, io mi prendo dei rischi, gioco con le persone, e considerate che sto su Zoom, a distanza, con persone che qualche volta ho perso, qualche volta il rischio non ha pagato, in qualche modo, molte volte sì, e mi rendo conto che, cavolo, se non avessi preso quel rischio, quell'intuizione che mi è arrivata di dire, di fare una cosa non scritta sul manualetto, quella persona non avrebbe visto delle cose, non avrebbe fatto un passaggio. Ovvio, sempre fatto con rispetto, sempre fatto, ma è un rischio, è un seguito di intuizione. Quindi il terzo pezzo è proprio importante. Gran parte del modello, non gran parte, una parte delle cose che ho scoperto, lavoro con le persone e che poi ho codificato come possibili pratiche all'interno di un processo, che è il processo del resonance, le ho sperimentate, prendendomi di piccoli rischi e vedendo quello che succedeva. Vediamo un po' che succede se faccio così. Il quarto punto è l'autenticità, che qui, parola molto vaga, molto estrema, se volete, che vuol dire essere autentici. Banalmente potremmo iniziare a dare una definizione, non far finta di essere una cosa che non so. Essere, come dire, onest, non onesti, cioè non far finta di essere quello che non sono, sia in peggio che in bene. Cioè, non buttarmi troppo giù, non tirarmi troppo su, poi rendermi conto di quello che sono in grado di fare e su come mi mostro rispetto alla, per esempio, a chi mi conosce mediamente, insomma, anche fuori dalle lezioni, sa che io fuori dalle lezioni, dai corsi, dalle cose, sono lo stesso di quando sono all'interno di un corso. Cioè, non c'è, non può essere, è difficile sperimentare, cioè non sono due persone diverse. Quando sono nel corso non devo far vedere che sono particolarmente figo, quando sono fuori dal corso non devo far vedere che sono particolarmente in un certo modo. Tutto sommato sono così. Può piacere, può non piacere, ma partirei da lì. Poi, l'autenticità totale che vuol dire, no? Cioè, nel senso, quanto si può essere autentici in una relazione di coaching. È la stessa autenticità che mi viene richiesta all'interno di una relazione personale, di amore, intima. è lo stesso grado che, non lo so, no? Però non scambiate autenticità, per esempio, per dire tutto quello che pensate. Non è quello. Quello può far danni a volte, no? L'autenticità è più qualcosa che riguarda l'essere che il fare, no? Il sesto... No, il quinto è la curiosità. Essere realmente curiosi della persona con cui stiamo lavorando, del mondo che andiamo a esplorare, dell'attività che fa... Io sono... Se c'è una dote che ho, è proprio quella di essere curioso. Curioso delle persone... Curioso non vuol dire che voglio sapere i cavoli delle persone, eh? Attenzione. Curioso vuol dire che proprio mi affascina il mondo delle persone, quello che fanno, come sono, come sono arrivate a un certo punto, come hanno capito delle cose, come... Quali sono i loro pensieri, come organizzano il loro mondo interno ed esterno per fare quello che fanno, come sono arrivati a... In una condizione così miserabile, certe volte, no? Lo intendo all'inglese, miserable, no? Cioè, come sono arrivati a chiudersi in un modo dove sembrano non avere via d'uscita, come sono arrivati a star bene, ad essere così ricchi, così felici, così gioiosi. Cioè, io sono proprio curioso. La domanda che faccio più spesso e che ho fatto più spesso è come hai fatto? Come si fa? Mi insegni pure a me, più che essere invidioso, per esempio, no? Mi spieghi come si fa. No? Ho sempre guardato... E ho guardato e guardavo quello che facevano più che quello che dicevano. Quindi, la curiosità è un pezzo davvero importante. Perché se non c'è quella, non c'è la gioia del gusto, del divertimento, del fare il lavoro con le persone. Anche facciamo curioso rispetto ai modelli che esistono, rispetto alle... ai libri che parlano o che non parlano di quello... cioè, avidi proprio di informazioni, di vita, di esperienze, di conoscere la persona con cui sto parlando. Poi, non deve diventare un legame di amicizia o di altro. A volte lo diventa, a volte no. Non è detto, no? Certo. Però la curiosità, proprio. Il sesso punto è la fiducia in voi. Cioè, dovete essere sicuri, non tanto delle abilità che avete, perché quelle si sviluppano con il passare del tempo, ma fiduciosi nel fatto che siete voi e che siete persone valide, in qualche modo. Che in qualsiasi situazione vi trovate a fronteggiare di questo tipo il lavoro con le persone, potete risolverla, potete, come dire, gestirla bene, essendo autentici, essendo onesti, essendo puliti, essendo trasparenti con la persona, non dobbiamo, appunto, dimostrare di essere chi non siamo. Il settimo punto è il non giudizio. E non giudicare è un pezzo più difficile, secondo me. Non giudicare chi abbiamo davanti. Molto spesso ci escono, no? Di una persona e la inquadriamo in un certo modo, gli diamo un'etichetta. Uno strano, uno di un certo tipo, cioè la etichettiamo. E questo è proprio contrario, non tanto all'etica, perché poi ognuno di noi ma proprio alla possibilità di lavorare con una persona in maniera tale da portarla fuori dai suoi schemi, da aiutarla ad uscire dai suoi schemi. E il non giudizio è un pezzo di condizioni. Cioè il giudizio che abbiamo noi di solito è un pezzo estremamente, diciamo che abbiamo ricevuto dal condizionamento che abbiamo, che abbiamo ricevuto, condizionamento sulle emozioni, condizionamento sui comportamenti, condizionamenti su chi siamo. È molto difficile non essere stati condizionati, anzi, siamo stati condizionati da famiglia, cioè sviluppare un non giudizio, sugli altri o sulle azioni degli altri è davvero un pezzo di maturità. Come si fa a toglierlo? Beh, iniziamo a osservare quando giudichiamo e ci facciamo un inquaire. Da dove mi arriva sta cosa? Dove l'ho presa? Che in realtà... Poi, attenzione, il giudizio non vuol dire relativismo. Cioè ci sono cose per noi sbagliate moralmente e cose e cose giuste. Però posso giudicare l'azione, il comportamento, no? Ma nel momento in cui devo lavorare con la persona per portarla da un punto A a un punto B, se sto giudicando è molto difficile, è impossibile, no? È molto difficile. è impossibile riascaffare. L'ottavo punto è la compassione, poi vedremo meglio di cosa si tratta. E il nono punto, l'ultimo, è quella del giocare, della giocosità, la playfulness proprio. Cioè l'abilità di giocare con l'altra persona, con la vita, una volta in una in una riunione, in un congresso nazionale di una di un'associazione di coaching da cui poi sono uscito perché c'era la 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 di si beh, un corso di una settimana può non dare tutte le skill necessarie per per diventare dei coach formati in un corso, ma sicuramente può dare alle persone l'occasione di giocare con il coaching per sette giorni più poi tutte le ore che ci sono dopo. e io lo trovo una cosa molto e come dire, i professoroni sono scandalizzati da questa parola di giocare con il coaching perché è una cosa molto seria no? E in realtà cioè sentirsi sto cavolo per non dire altro voglio che il video poi vada su YouTube e quindi non voglio dir parolaci questa almeno questa lezione ancora la la rilascio. perché è la prima insomma è l'inizio della scuola del nuovo anno e questa parola del giocare che vuol dire giocare ma anche essere giocosi no? Cioè la vita funziona di per sé proviamo a sperimentare a giocarci con divertimento ma deve essere un divertimento lavorare con gli altri qualsiasi sia il lavoro cioè noi abbiamo bisogno di mantenere questa questa vitalità giocosa nell'interagire con gli altri nel provare ad aiutarli a cambiare nel trasformarci se diventa una roba che non vuol dire ehi facciamo un giochino eh cazzeggiamo vuol dire mantenere per noi una giocosità un'apertura anche una una seduttività in senso buono cioè oh cioè sono vivo sono cioè entra nella vita entra nel gioco ma quando le persone giocano è impossibile che siano tristi se riusciamo a far giocare una persona giocare non vuol dire giocare a carte no se riusciamo a portarla in un gioco è possibile no? attiviamo le risorse e per portarla in un gioco dobbiamo essere perfetti primi noi capaci di giocare eh riprendiamo ci sono domande fino a ragazzi poi le svilupperemo nel corso delle prossime lezioni queste cose perché iniziamo eh iniziamo con la presenza empatica è costante innanzitutto eh sono consapevole e presente per l'intera durata dell'interazione devo sviluppare la capacità di stare con la persona per l'intera ora ora e mezza 40 minuti 40 minuti quello che è questa e fare questo qualsiasi cosa mi sia successo prima sono stato mollato dalla ragazza mi ha rotto la macchina cioè qualsiasi cosa successa io sto nell'interazione con la persona devo essere quindi devo sviluppare questa cosa l'ho sviluppata nel lavoro con 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 tanti anni fa cioè tu hai due tre trattamenti cinque trattamenti in un giorno quell'ora lì io sto quello per cui vengo pagato non è le dita addosso è la presenza che ho per la persona qualsiasi cosa se non se penso di non essere capace perché mi è successa una cosa che mi distoglie chiamo la persona e gli dico oggi non sono pronto per fare la sessione sperando che sempre di più mi rinforzo e decido di mettermi alla prova cioè anche dire oggi non sono pronto è una cazzata cioè oh se ci devo vivere ci lavoro lo posso fare una volta in un anno non è che poi posso sempre dire no no oggi non mi sento se lo fai sempre vuoi dire c'è bisogno di lavorare e questo è quello che fa la differenza tra un professionista e un amatore lo ho detto spesso quindi perdonatevi se l'avete già sentita quello che fa la differenza tra un professionista e un amatoriale un amatore di quello che fa non è quanto è bravo a volte gli amatori sono molto più bravi dei professionisti ma in tutto nella musica in qualsiasi disciplina quello che fa la differenza tra un amatore e un professionista è che il professionista porta a casa il lavoro anche con una gamba rotta no matter what qualsiasi cosa cioè anche se è stato sei appena divorziato c'è una gamba rotta c'è tre ranto di così lui fa il lavoro e lo fa bene come quando sta bene punto porta a casa il lavoro questo è un professionista in qualsiasi campo usata come definizione proprio da professionista dall'amatore un amatore uno che lavora quando sta bene so che è una definizione probabilmente parziale o come dire che insomma sì parziale insomma non significativa per qualcuno di voi ma in realtà secondo me è molto significativa invece il professionista si prende la responsabilità di vivere con quello che fa e quindi lo fa sempre non so se avete mai visto i camionisti che guidano 28 ore cioè non è che oggi non mi sento io tutta la mia famiglia da parte di padre degli zii delle cose per i camionisti cioè non matter what negli anni 70 80 quelle cose lì non so perché mi è uscito fuori questa cosa quindi dare essere presente dare al mio cliente la mia attenzione piena attenzione piena non vuol dire solo guardarlo ascoltarlo ma vuol dire che il mio flusso dei pensieri è su di lui io gli sto regalando sto vendendo gli sto cioè gli sto regalando perché poi non gli vendo quello ma gli sto regalando la mia attenzione la mia intelligenza la mia presenza i miei processi mentali per l'intera ora non sto pensando ad altre cose so che è difficile farlo ma sto facendo quello mi sto anche aprendo non sono sulla difensiva entro nella relazione per un'ora sono in relazione se è troppo forte la parola relazione sono in interazione con quella persona con tutto il mio essere gli sto regalando un'ora dove io sono tutto per lui il mio cuore la mia anima la mia presenza la mia attenzione il mio linguaggio la mia intelligenza tutti i miei studi sono a sua disposizione vedete che se fate lavoro con le persone working with people partendo da queste basi vedrete che i vostri risultati e anche i clienti esplodano sto lì tutta la mia intelligenza la mia attenzione i miei studi i miei libri i miei sbinchiamenti sono lì per loro l'accettazione di quello che sento l'accettazione di quello che sentono altro caratteristica quindi accetto i loro sentimenti quello che sentono non voglio dire amore incondizionato perché insomma è una parola che sono italiani sono europei insomma è una roba un po' suona un po' fake in Italia amore incondizionato ci riporta subito un po' a oscio no? delle cose noi siamo un po' più concreti però sento la persona ecco se non vogliamo usare amore incondizionato la capacità di vedere la bellezza di quella persona e amarla in qualche modo al di là di quello che vediamo cioè di vedere di vedere un po' di più l'essenza della persona ci siamo fino a qui ragazzi mi sentite? un'altra caratteristica della presenza empatica è quella è quella della persona in inglese anche in greco c'è un termine della parresia no? cioè della del dire quello che vuole essere detto e lasciarlo emergere cioè trovare le parole perché quello che deve essere detto che vuole essere detto emerga come se non fossimo noi a parlare cioè non come giudizio non come dico sta cosa ma come come qualcosa che sgorga da noi è strano però c'è difficile da definire ma se vi è mai capitato anche in un'interazione amicale o con un partner cioè dire quello che chiede di essere detto che è nel campo della presenza non un giudizio di tipo tu sei così tu sei colato hai sbagliato cioè non è questo quello che chiede di essere detto tipicamente è qualcosa che davvero ho sentito come urgenza di dover dire per il bene dell'altra persona e se non lo dite la persona non fa quel passettino evolutivo e tipicamente non è un giudizio non è uno è una è una definizione qualcosa qualcosa che magari ma non è mai un giudizio qualcosa che può offendere l'altra persona Simone dimmi ciao mi fai un esempio per favore in una situazione per esempio magari difficile di cosa magari sono con una persona adesso non mi viene in mente però magari bisogna bisogna è meglio dire qualcosa di difficile da dire allora 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 è difficile definire quello che chiede di essere cioè segnati proprio queste parole quello che richiede quello che chiede di essere detto lo sta chiedendo lui non 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 volevo dirti questa cosa in termini di esempi ma di un tuo sentire rispetto a a qualcosa che senti stiamo parlando di ritorno al pezzo di che abbiamo detto prima di ascoltare le proprie intuizioni cioè a un certo punto durante una sessione si affaccia un e questo lo capirete bene iniziando a lavorare con le persone per questo io faccio un corso di sette giorni o di alcuni mesi online che certo posso imparare il coaching in quattro anni certo in otto anni certo in due anni con mille ore di certificazione bello le certificazioni tanto non contano niente e contano tutti uguali cioè contano tutte nello stesso modo a livello legale ma io posso stare tre anni in una scuola e non aver mai fatto una sessione o averne fatte con i miei compagnucci di corso bla 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 che non sono sessioni reali no? o meglio sono sessioni reali ma non c'è un campo vero c'è un campo simulato cioè bisogna essere molto bravi a come dire a uscire da un'aula di corso secondo me no quindi questa è una cosa che capirete quando inizierete a fare delle sessioni non è qualcosa di semplicemente cose difficili da dire non lo so dipende da persona a persona ma a un certo punto senti che nel corpo qualcosa ti chiede di uscire fuori non un'offesa non qualcosa che ti viene da un giudizio ma qualcosa che parla attraverso il tuo corpo che ti arriva come intuizione che ti arriva come come richiesta e magari succede a me succede un sacco è successo tante volte di tenerla lì di non dirla perché magari nella sessione stavo andando in una direzione diversa stavo seguendo una linea un plot una linea di attacco tra virgolette di lavoro con la persona che con cui questa intuizione che richiede di essere detta non c'entra niente perché mi costringerebbe a dover spostare l'intero l'intero linea di lavoro con la persona quindi me la tengo lì questa non la dico me la segno mentalmente e mi accorgo dopo 20 minuti che cazzo mi sta chiedendo letteralmente di venire detta quindi non è tanto di questo di quello è riconoscere questa situazione di cui ti sto parlando e sentirla nel corpo e assecondare ecco quindi la capirai bene quando inizia a lavorare con qualcuno capisci cosa voglio dire? si capisce da fuori la persona sta parlando le cose abbastanza non dico avanzate però personali che toccano toccano noi sì talvolta ti sembra di non averla neanche pensata arriva arriva fuori non sì come hai detto tu ho capito quello che hai detto grazie grazie a te considerare anche che le persone con cui lavoriamo in qualsiasi contesto coaching lavoro con le persone working with people vediamo questo termine d'ora in poi sono molto suscettibili alla nostra calma alla nostra postura alla nostra presenza al nostro tono di voce quindi devo anche imparare a creare un ambiente per la persona in cui si senta risvegliato eccitato di dalla nostra come dire noi attraverso la curiosità risvegliamo anche l'interesse nella persona lo riportiamo in una sua vitalità ma come hai fatto come hai iniziato a fare quello che fai oggi perché fai sta cosa così strana per me che non che me la spieghi quando è che hai iniziato a suonare quando è che hai iniziato a fare atletica quando è che hai iniziato a scrivere sono curioso ma non è una domanda perché il modellino mi riporta a dire a fare la domanda dimmi ma perché davvero c'è qualcosa che porta una persona a 12 anni a scrivere il suo primo programma per il computer c'è un ragazzino di 12 anni che a 12 anni inizia a scrivere quando è che hai scritto il tuo primo programma avevo 12 anni io a 13 anni ho scritto un programmino che faceva l'ho scritto l'altro giorno su facebook i primi soldi li ho guadagnati scrivendo un programmino ho iniziato due anni prima a 11 anni com'è che cioè ti regalano un Commodore 64 invece di caricarci i videogiochi tu devi scriverci dei programmi uno su 100 faceva sta roba uno su 200 forse la maggior parte se lo comprava per giocarci col videogioca ma niente di speciale però da dove ti scatta quella cosa allora tu hai una domanda del genere me la fai a me mi riporta ai miei 11 anni mi riporta al lunedì mattina in cui ho trovato ho iniziato subito a sfogliare il manuale poi non bastava perché non diceva un cazzo il manualetto del Commodore 64 allora non c'era mica internet vai dagli amici compri le riviste in edicola non c'hai soldi te li fai prestare batti a mano i pomeriggi tutti i codici per appena cioè ti riporta anche la roba lì questo parte dalla curiosità già quello è portare la persona in una posizione generativa a me se mi fai questa domanda mi riporti in quella modalità lì cioè io mi ricordo a 13 anni scrivevo software c'erano le olimpiadi di Los Angeles quindi mi ricordo no proprio pranzo Carl Lewis che correva faceva il salto in lungo poi sonnellino il pomeriggio passato a cioè mi riporta in quel mood lì mi riporta generativo già quella roba là allora e il tono che uso la mia capacità di operatore di facilitatore mettetela come volete di coach di calmare la persona di non reagire alle sue cose di non no di mantenere un centro un radicamento nel lavoro di essere centrato è fondamentale cioè non è un devo in qualche modo spegnere la sua parte limbica la sua parte reattiva che va da mille parti no la sua parte fuga combattimento e mobilizzazione devo portarla centrarsi e siccome il modello si chiama resonance perché c'è una risonanza tra la persona che facilita e la persona che riceve cioè molto si basa proprio su questa capacità di entrare noi stessi per prima in posizione generativa e siccome la posizione generativa funziona esattamente in questo modo di lasciare che le altre persone intorno a noi o la persona con cui stiamo lavorando entri in se stessa in posizione generativa semplicemente per il fatto di risuonare con noi questo il lavoro quando entrate davvero in posizione generativa e la sentite questa roba immediatamente voglio dire la magia però si espande intorno a noi ci portiamo dentro anche le altre persone che è un principio naturale semplice forse anche banale di quando entra una persona nella stanza e cambia l'energia della stanza semplicemente per il fatto che è entrato non stiamo parlando di energie sottili di corpi eterici di stessa roba è quella o meglio non la sto vedendo da quell'angolo lì magari anche sì ma quello che vi sto dando la posizione generativa è una modalità una possibilità di avere un impatto sull'ambiente intorno a noi o iniziate uno a uno con la persona con cui state lavorando di portarla in uno spazio in cui ha un senso di possibilità e filtra la realtà non dal problema ma dalla possibilità semplicemente per il fatto di starci a fianco succede succede a tutti cioè anche chi non ha fatto cioè non è che il reso non sia l'unico cioè chiunque ha incontrato delle persone con cui quando ci sta vicino il mondo sempre più semplice cioè entra in una configurazione di un certo tipo in cui non filtra più il mondo a partire dai problemi persone che hanno un senso di possibilità e non perché hanno più soldi o perché hanno più no specialmente per il fatto di no e beh cioè mi ricordo no delle persone che e poi si mettono a parlare e mi spiegava ma non era neanche quello che dicevano era la loro centratura il loro stare di fronte a presentarmi il mio problema insomma non era fregazze non era menefreghismo sti cavoli i per me tu per te come dicono non era quello era accoglierlo vederlo sentirlo e poi darmi non la loro prospettiva mentale ma la loro centratura per dire ok e il solo fatto di star vicino a queste persone costituisce costituiva per me la l'entrare in quello spazio di centratura di sicurezza questo è il primo pezzo da implementare in un lavoro di coaching di facilitazione di resonance chiamatela come vuole di working with people questa capacità di far sentire al sicuro e con un senso di possibilità la persona con cui stiamo lavorando fondamentale la tecnica viene dopo se stiamo vicino a una persona così anche se sta zitta tutto il tempo è già una sessione che vale la pena di essere fatta bisogna far nient'altro un giro in macchina di un'ora stando zitti la persona e se ha una macchina anche in ambiente piccolo è comodo dal suo punto di vista uno spazio nel quale c'è quell'energia lì che rimbalza da un finissimo all'altro potente già questa è una sessione parte da lì una sessione quindi vedete che è prima un lavoro nostro prima di prima che essere un lavoro con una tecnica un modello con le frasette da dire con delle domandine da fare questo non c'è nessun senso quando vi dicevo questo è stato e non prendete appunti che cacchio prendete appunti non è quello vi parla questa cosa ragazzi ancora un attimo quindi creare uno spazio di sicurezza e poi dare al cliente alla persona in cui stiamo lavorando tanto spazio per esprimerci per esprimersi per questo non saltargli addosso con il nostro con la nostra verità ho visto tantissimi coach dare o facilitatori o terapeuti di qualsiasi tipo dare seconda del lavoro che fa dare soluzioni troppo presto io vedo io capisco mo te dico quello che devi fare per carità a volte ha senso come facciamo a capirlo intuito a volte ha senso anche quello a volte la persona arriva con la necessità di avere una soluzione che qualcun altro ha visto prima di due ma dobbiamo dargliela quando è pronto non quando e tipicamente a noi arriva siccome la vediamo prima anche se siamo autentici nell'averla vista non è una cosa che abbiamo letto su un libro ma la sentiamo vera tipicamente tendiamo a darla sempre un po' troppo presto quindi la capacità di morderci la lingua e di dare spazio all'altra persona ma non perché dobbiamo morderci la lingua come piacere della condivisione dello spazio con l'altra persona è come piacere di sentirla esprimere questa roba si basa sul piacere sul divertimento di stare con le altre persone all'interno di uno spazio in cui succedono delle cose si gioca di nuovo il gioco che fa inorridire tante tante esperti di comunicazione di coach di cancer questo è questa roba è gioco inteso nel suo senso più alto piacere ragazzi basta abbiamo fatto una lezione riguardate quella domani poi questa la pubblico perché ripeto la prima ne volevo tipicamente potrebbe essere magari pubblico i primi 15 minuti 20 minuti di una lezione poi il resto andiamo con altro però questa la pubblico perché è la prima e mi piace l'idea di far vedere come lavoriamo un po' come lavoro come le idee che ci sono nella scuola interrompo la registrazione